The Last of Us è il titolo con cui Naughty Dog si propone di chiudere in bellezza questa generazione di console. Messo da parte del brand Uncharted, Sony decide di lanciare proprio alla fine del ciclo vitale di PlayStation 3 una nuova IP dai valori produttivi inarrivabili, regalando ai giocatori un'avventura indimenticabile. In uscita il prossimo 14 giugno, The Last of Us sembra voler riscrivere il paradigma degli action-adventure, raccontandoci il viaggio di Joel e Ellie attraverso un'America allo sbando. The Last of Us è ambientato in un mondo ormai perduto. Un'infezione funginea di origine ignota ha attaccato la popolazione umana, assalendo i centri nervosi degli infetti per trasformarli in creature aggressive. All'interno delle zone di quarantena, regime militare circoscrive il contagio e la vita tranquilla, ma fuori le bande di sciacalli assassini lottano per le risorse e la sopravvivenza. Il compito di Joel sarà proprio quello di portare Ellie da un capo all'altro dell'America, attraversando città distrutte e disabitate. Si avverte in maniera potente il senso di solitudine e sopraffazione attraverso le ambientazioni desolate e meravigliose. Ogni scorcio racconta un frammento della catastrofe in maniera rude e sublime, grazie all'abbondanza di dettagli, ai silenzi, alle prospettive lugubri e ai rari momenti in cui si riscopre preziosa una speranza. A livello di gameplay, The Last of Us si presenta come un action dai ritmi molto particolari. Oltre alle fasi di esplorazione, Joel dovrà tenere a bada le bande di sciacalli e i reglietti, sfruttando al meglio le risorse e l'ambiente. Nelle ambientazioni il protagonista potrà recuperare vari oggetti, utili per costruire armi e medikit indispensabile alla sopravvivenza. Così come Joel, anche i suoi nemici devono far fronte alla scarsità di risorse e proveranno in tutti i modi ad accerchiare il protagonista per coglierlo di sorpresa e non sprecare munizioni. La capacità di nascondersi, restare in movimento, ascoltare quello che succede intorno a noi per capire il posizionamento degli avversari sarà fondamentale per superare gli scontri. Da sottolineare l'estrema brutalità dei combattimenti, molto realistici e tremendamente crudi. Un tocco di classe che caratterizza in maniera ancor più evidente il titolo Naughty Dog, davvero unico nel suo genere. The Last of Us si propone come un prodotto fortemente originale nelle tematiche, nelle metodologie narrative e nel gameplay. Lasciando al giocatore una solida libertà interpretativa, immergendolo in un mondo pensato e costruito meticolosamente, Naughty Dog vuole spingersi oltre i confini dell'adventure game per chiudere col botto la sua parabola su PlayStation 3. Grazie. 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 Grazie.